Ciao sono Edoardo della Turbocharger World e da 15 anni ho aiutato migliaia e migliaia di persone a trasformare le loro auto in veri proiettili. Ora ti do dei suggerimenti per come aumentare l'affidabilità sulla tua macchina. Utilizza un liquido di raffreddamento racing o un additivo per liquidamento racing per poter incrementare quello che è l'affidabilità di tutto il monoblocco. Se le temperature continuano ad essere più alte inizia a pensare a utilizzare un radiatore dell'acqua maggiorato con ventole annesse. Questo è veramente importante perché più tu hai il raffreddamento ottimale su quel monoblocco migliore sarà l'affidabilità nel lungo periodo. Se per caso hai un radiatore dell'olio va benissimo, se non ce l'hai verifica bene le temperature perché anche l'olio è assolutamente tassativamente importante. Un altro aspetto fondamentale sono i trattamenti antiattrito nel motore, cambio differenziale perché migliorano quello che è la scorrevolezza diminuendo quello che è l'usura e migliorando quello che è la potenza sulle ruote. Se per caso un motore ha fatto tantissimi chilometri utilizza un detergente olio motore prima del trattamento in modo che sarà completamente pulito all'interno e poter creare lo spazio per utilizzare il trattamento al teflon che migliorerà ancora di più le sue qualità. Utilizza sempre olio di qualità a livelli molto alti. Consigliamo Royal Purple perché dopo tantissimi test abbiamo verificato che è un prodotto di alta qualità e tende a proteggere tantissimo quello che è il motore, il cambio e il differenziale. Informazione importante su quello che riguarda il filtro dell'aria, non tenerlo assolutamente attaccato al debimetro ma distanzialo di 20-30 cm perché grazie a questa distanza il flusso potrà essere continuo, può essere indirizzato, il debimetro potrà leggere in maniera ottimale e questo permetterà di migliorare quello che è l'erogazione e l'iniezione del gasolio o della benzina all'interno della camera di scoppio. Non andare sempre a velocità massima perché se vai per tantissimo tempo a velocità massima creerai moltissimo stress soprattutto se hai una macchina preparata e soprattutto se hai una macchina che ha prestazioni molto 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 elevate. Questo già vale per quanto riguarda una macchina standard e ancora di più per quello riguardo una macchina preparata. Vai a velocità elevata però non per tantissimi chilometri. Importante non accelerare in marce alte ma bassi numeri di giri. Questo crea molto deleterio per quello che riguarda le turbine perché crea un fortissimo stress al turbo creando degli scompensi interni che potrebbero portare nel medio periodo a delle rotture. Ricordati anche un piccolo suggerimento che nessuno ti dice di fare la doppietta sia mettendo la marcia superiore sia scalando. Perché? Perché aiuterà i sincronizzatori a entrare meglio o a mettere la marcia superiore in modo più fluido senza creare dello stress. Non esagerare con le cambiate molto veloci ma cerca di essere fluido e sfruttare al massimo il potenziale del motore. Questo aiuterà notevolmente quello che è la longevità del cambio e della trasmissione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.